c'è piove no 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 eeeh andiamo andiamo ah io lo spegno eeeh 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 ma vedi te 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 eeeh no ah 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 ma quando oggi nessuno si adesso forse si vede con la gamba alzata proprio perchè? eh ma io ce l'ho già alzata no eeeh no meglio di no non ci vede un cazzo beh si anche con la gamba alzata si vede ma io vedevo prima con la gamba alzata adesso do ho cambiato video con samsung vedevo con questo qua però questo qui c'ha la presa normale non ce l'ha quella gli 8m di 2 adattatori capito? ehm magari non so se è per quello che cosa magari no no a me mi basta lo zainetto un po' più grande o verde o anche c'è 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 oh io quella arancione l'ha trovato bad lidamage il ridicolo si vede lo scherzo però non lo so bad lidamage scus il ridicolo lo vedi perchè questo mi genere anche io lo uscatevo la Mage lo wet poi tu poi lo punti lo punti ah si io mi haria no quell'arancione non mi serve arancione io lo voglio verde è quello qua arancione dentro la caserma se non c'è niente lo mollo mi tengo questo ma c'è uno e il grinch scusate come cazzo è? ci si abbassa? ma il grinch come chiaro ci si abbassa? va bene, va bene adesso si mette giù, non so un cazzo perché no, è sicuro che tutto è giù ahah, è sicuro che fuori corri da ferro stiamo andendo da fino là non prendo il mio allenamento ma anche qua è ancora un po' ma che ho gli zonbili adesso? è sicuro è sicuro qui è vero questo ci si può essere non ci sono non ci sono che c'è l'uomo non ci sono non ci sono